Ciao a tutti webbazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo qui con ManuAnu, ciao e pazzi! E oggi faremo la prima challenge, detto che a me le challenge mi stanno sulle palle, Manu me ne ha proposta una molto carina, e cioè lei si toglierà un indumento ogni volta che perderà Street Fighter con me. Ah no, giusto, era un bicchiere di vino, no ho sbagliato, ho sbagliato. Quindi che famo? Partivo? Ah sì, puoi parlare, parla, parla parla parla. No, 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 non voglio parlare. Non vuole più parlare, sigla. Allora, le regole sono semplici, faremo 5 round, ogni volta dovremo scegliere un personaggio diverso e chi perde beve mezzo bicchiere di vino, mezzo bicchiere di vino, dovrebbe essere uno in teoria, però facciamo mezzo, facciamo mezzo. Iniziamo, vai Manu tu scegli. Chi ti prendi? Bison. Vai con Bison. Io mi scelgo Sagat. Sagat. Vai così. Sei pronto a morire. Ti trovi subito i jolly tu. Sì, ma tanto non lo so usare più. Vai! Distruggilo. Ora sfida il potente Bison. Ora sfida il potente Bison. Portacci. St'andato bene Manu. Ma che stai visto? Devo morire già. No, no. Guarda che ha fatto e te la scorta. Vai così. Primo round. Cioè, devo vincerne due. Il round? Eh, beh. Sì, sì. Altrimenti sbronza. No, minimo su 5 sarebbero 10 bicchieri. Mi pare un po' troppi, dai. Vai così. Vai a prendere la scorta. Sì, ma l'auto non funziona. Ma che stai? Go. Wow. Ma falla una mossa, no? E in servizio ti fai prendere. Va bene, Zan. Vai. Non sei andato bene. Guarda, quasi perfetto. No, niente. Vabbè, te la devo andare. Vai così. Sì, primo bicchiere. Primo bicchiere. Te l'ho perso io. La vedo brutta, ragazzi. La vedo brutta. Un terzo. Ma la goccia? No. No, piano piano mentre giochi. Tanto seleziono cambio personaggio. È la vostra, webazzi. Bene. 1 e 0. Era quello gigommoso. Eccola qua. Il gigommoso. Dalsim. Allora, tu scegli Dalsim. Io guarda, voglio essere buono. Buono. Guarda, c'è uno a... Chun-Ling. Ok. Chun-Ling. 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 Il gioco è suo in tutto ciò, eh. No, volevo soltanto dire questo perché poi sembro scorretto. Chun-Ling. Vai. Sì, possiamo iniziare. Eccolo, lui. Sei sicuro? Sei molto sicuro? Ma Chun-Ling, sparava qualcosa. Vieni, vieni. No. Oh. Ma che cazzo? Dai, dai, fatti beccare, fatti beccare, fatti beccare. Mamma mia, fatti beccare. Ah, noi non facciamo le super perché siamo professionisti, eh. Sì. Perché non abbiamo mai capito come... Brava, esatto. Oh, oh, oh. Che cazzo? Non è che rieschi di... Non è che rieschi di rincerlo? Devi rincerlo. No, tu quasi morti. Eccolo, eccolo, eccolo. Contro Gianlino. Sì, vabbè, Chun-Ling è forte. Guardate le gambe, va. Ah, già comincia a perdere perché sai che mu... Arriva l'alto. Bravissima. Va, là. Chun-Ling. Ma fatti prendere a me, fai un attimino il gentiluomo. È un attimo, è un attimo, è un attimo, è un attimo, è un attimo. No, vabbè, bisogna essere corretti, non è che... Vabbè, non c'ho ragione, non c'è spartito. Oh, via così! Ah, ma ancora stavo qui? Sì! Umiliata pubblicamente davanti a tutti. Eh, allora, poi toccava. Dai, guarda, per solidarietà me ne bevevo un goccetto anch'io perché sennò... Grazie. Perché tanto so che berrai fino alla fine. È stato bravo, è stato bravo. Alla tua. Alla nostra. Alla nostra. Stiamo andando bene, eh? Parla per te. Allora, vediamo, voglio prendermelo uno. Oh, Ryuken, oh, Ryuken. Sono scarso. Io non facevo niente, però... C'è un gif, dai. Non è scarso, in realtà. Te ne voglio far vincere una, te ne voglio far vincere una. Ce la posso fare, ce la posso fare. Ce la vuoi fare? Comunque mi stia far canto. Eh, te chiedeva. Vai. Bestia. Mamma mia. BAM. Era che si elettrizzava questo tipo. Ecco, appunto. Eccolo. Oh, ma che cazzo. Oh, stai vincendo. Stai vincendo, Manu. Stai zitto, stai zitto, stai zitto. No! No! Mamma mia. Vieni qua, vieni qua. Vieni qua, vieni qua che c'è il coraggio. Vieni qua. No! No! A morte. Distruggilo. Distruggilo. No, ma perché? Io ho dato 20.000 poteri. No! 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 C'è la vicina, ma niente da fare. Ce lo fai, sì. Il ciccione! Ma poi ti ho distrutto, perché? Con un solo tocco mi hai ammazzato. È perché Jean-Gift è così. Non avevi detto che non faceva schifo questa cosa? Eh, ma vedi che è lento, guarda. Ho capito, guarda, botta e mi ha buttato a terra. Se vorrei fare una presa, ma non c'è riuscita. Niente, l'hai fatta tu. Ma che aveva pochissimo. Aia! Aia! Alla finita! Ecco qua. Ecco, l'ho preso! L'ho preso! Catastrofica questa! Sono morta! Sono morta! Sono morta! BAM! BAM! Ed è infile, ancora! Ancora! Ma era il secondo round? Eh sì, è altro bicchiere. Non so più. Non sono un'alcolizzata. Ci tengo a precisarlo. E soprattutto, non devo guidare dopo. Bravo! Guidate sobri. Ne mancano solo due. Due bicchieri per mano e basta. Va bene. Scegli. Eh, chi scelga? Sono a schiappa con tutti. Eh. Ma perché stai aspettando che scelga io? Perché? Perché sono gentiluomo. No, non è vero. Ma certo. Vuoi che scelgo prima io? Io scelgo Vegala. No, non lo facciamo rosso. Va bene. E io scelgo Bison. Eh, vabbè dovrebbe. Eh, prima o poi... Morta, morta, morta. No, poi devo scegliere. Siamo tonti? No. Come no? Non voglio morire di nuovo. No, non voglio morire di nuovo. No, non voglio morire di nuovo. Eccomi. Ora sfida il potente Bison. Che brutto. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Fai 4, finché puoi. Non sa quando mi sta giocando. Dai, dai. Fai vedere chi sei. Venga, su. Che lo fai? Mi schifo, mi schifo. È l'unica cosa che posso fare. Saltare. No, dai. Oh, questo è mio. Non lo puoi prendere. Ma questo non fa niente. Ho fatto saltare pure la cosa qua. Vai, ripetela. Come me la riprendo? Non me la posso riprendere. Ops, scusate. Non è. Hai messo. Adesso muori. Mi fa battere quando è una mascherina prima di morire. Che cacchio serve quella mascherina? Eh, non so, ti proteggerà. No, possiamo annullarla da questa. Perché? Perché questo non sta a fare niente. Ma come no? Dai, faccio un po' più chiaro. Vieni, vai. Oh! C'è l'ha. Un pugno. Non te faccio niente. Che stai a fare? Che stai a fare? Ma il cozzo. Boom. Boom. Sembali. Boom. E dai. Ma sto fermo, sto dando soltanto calci. Eh, se tu vieni qua, metti la faccia davanti e non male. Non è meglio che devi calci in faccia, no? Eh, te le metti lì che devi calci in faccia, dai. Ma io provo ad avvicinarmi per bicchiarti. E' un altro bicchiere di vino, ormai. Guarda, c'è, t'ho vantaggiato in qualsiasi maniera. T'ho fatto riprendere le cose che te che sono accadute. Ma che tanto non c'è tanto a niente quelle cose. Guarda qua. C'è, questo è il bicchiere di vino che vi faccio bere. Oh, come sei buono tu, bebo. Lo so. C'è l'ultimo round, a brevissimo. In tutto ci sta bevendo anche lui. Eh sì, perché non lo bevo io. Ultima manche. Almeno una voglio vincere. Guarda, è giusto. Scegli tu il mio personaggio. Scelgo io il tuo personaggio? Sì. Ryuk. Lui. Non sei sicura? Non posso far niente questo. Oh no? Dici? Va bene. No, 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 aspetta. Ah no, lei, lei, lei. Chi? Viper. Questa qui? Sì, ma tanto mi imbatti con qualsiasi... Ma che ne sai, che ne sai? Non hai detto. E' io, e' io, e' io, e' io. Tu prendi quello che ti senti più sicura. Posso riprendere la mano che ho già preso? Va bene, va bene. Lui, lui, lui. Vai. Guarda, se perdi adesso... C'è. Che hai detto? No, niente. Ti ho sentito? No, niente. Perderà anche questa volta? No, niente. Sì, 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 sì. Sì, è vero. Entendete. 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 Che fai? Lirati il sedere. Ma che bestia. Wow! Are you ready? Go! Che grigio malato, come voglio dire. Che mi è successo? Ahia, Manu. Non posso vincere con una mingerlina. Non posso perdere con una mingerlina. Ci vuoi alzare, per favore? Sto qua, adesso ho spietato. No. Uff. C'è un impazzino. Ma tanto, scusa, posso sentire io più sotto? Perché? No, no! Mannaggia! Ma chiacchia? Eh, va bene. No! No, non ci credo. Guarda che non vado a perdere! Annaggia! Hai fatto il co-op! No, va bene! Hai fatto il co-op! Dai, dai, che ce la puoi fare, Manu! Ce la puoi fare, Manu! Ce la puoi fare, Manu! Vieni qua! Vieni qua, maledetto! Maledetta! No! No! No, 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 no! Sì! Sì, incredibile! Irregulo! La concentrazione! La concentrazione! S'era concentratissimo! L'ho battuta comunque! Aspetta, 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 aspetta! Attimo di, attimo di! Che succede? E questa è stata brutta! Questa è stata veramente brutta! Questa è stata veramente brutta! La concentrazione negli occhi di Web! Scusa, scusa! Partito superare! Sì, è un po' basso, eh! Ma è tutta scena! Scossa! Guarda quanta energia maleva di già! Dove lo fa? Con un calcetto stupido! La concentrazione negli occhi di Web! Vieni qua! Stai a so' venire! No! Vieni che ho paura! Aio! Aio ancora! No! No! Ce la sta facendo! Ce la sta! E ce l'ha fatta! E ce l'ha fatta! E ce l'ha fatta! E ce l'ha fatta! E ce l'ha fatta, Junior! A vincere un round! Maledetto! Ha vinto un round! Non ci posso credere! Che soddisfazione, ragazzi! Un stramalettissimo round! Aio ma! Si aveva! E che cavolo! Guarda se non vado a bere un bicchiere di vino! Che ne ha vinto! Stupido! E' successo lì insucessibile! E ce l'ha fatta! E vince, signori! E ora è come... Ora glielo rientro a io il bicchierino! Ma mi hai fatto vincere! Aspettate un attimo! No! Non lo faccio, vincerai! Non l'ho fatto vincere! Controllatelo un po'! Non l'ho fatto! Grazie! No, ti avrebbe stato pure un po'! Quell'uno piccolino lì! O lì! Non lo so dove si legge! Senti, lo chiede il video! Si! Allora, voi pazzi! Questa prima challenge del canale è finita, per fortuna! Se volete ancora, Manu, ospite qui da noi, lasciate almeno 150.000 mi piace! E noi non la vedremo mai più, praticamente! Per oggi è tutto, voglio dire due o di qualcosa? No, non voglio dire niente a io! Ciao a tutti! 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 Mi hai fatto vincere all'ultimo! Grazie a tutti! Grazie a tutti.